ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere assieme due portali indispensabili per riuscire a muoverci senza troppi pericoli all'interno della baina smart chain e all'interno della defa i sui tirio andiamo a vedere the five station ed i pulse dopo la sigla che avete fatto l'accesso a questo portale raggiungibile all'indirizzo the five station punto io ma vi lascerò il link in descrizione questo portale si presenta in questo modo il grafico che vediamo a prima vista nella home page ci mostra l'andamento della defa e sulla baina smart chain quanto sta crescendo e in che modo si sta muovendo praticamente ci va a dire che del 17 febbraio nella baina smart ce ne sono stati bloccate 6 miliardi di dollari ad oggi invece 42 miliardi di dollari quindi la defa il blocco delle cripto valuta all'interno di questi ecosistemi sono aumentati a dismisura passiamo alla parte più importante di questa applicazione di questo portale abbiamo l'elenco dei progetti divisi eventualmente anche per capitalizzazione ma che cosa ci va a indicare se noi andiamo sul pallino blu ci va a mostrare quale progetto ha ottenuto l'audit e addirittura il certificato che ha ottenuto noi possiamo andarlo a controllare che cos'è l'audit ne ho parlato in un video che si chiama il lato oscuro della defa è praticamente un controllo che viene fatto è una certificazione che viene data da un'azienda esterna che va a controllare la veridicità dello smart contract e va a vedere se ci sono degli errori di scrittura oppure un qualcosa che potrebbe pensare a una scam quindi i progetti che hanno ottenuto questa certificazione sono tre progetti chiamiamole così tra virgolette più sicuri questo sa significare che se dobbiamo interfacciarsi se dobbiamo utilizzare questi protocolli questi swap è meglio andare a controllare se abbiano ricevuto almeno un audit andiamo scorriamo un po verso il basso noteremo che ad esempio swamp finance attualmente non ha ancora ricevuto un audit quindi per andare a scegliere di depositare le nostre cripto valuta all'interno di swamp finance piuttosto che a bakery swap 32 ovviamente la scelta dovrebbe ricadere su bakery swap quindi per prima cosa andiamo a scegliere una piattaforma che ha ricevuto un audit sostanzialmente perché non vuol dire che chi non ha ricevuto un audit è una scam ci mancherebbe altro però è da preferire una piattaforma che ha ricevuto un audit perché vuol dire che una persona esterna 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 al progetto quindi senza interessi è andato a controllare la veridicità di questo protocollo ed è una sicurezza in più per noi utenti che andiamo comunque a investire le nostre cripto valute magari a bloccarle in un farming una liquidity pool o a fare degli swap quindi meglio avere le spalle protette il primo passo per decidere quale piattaforma utilizzare e utilizzare the file station punto io per andare a vedere gli audit ora passiamo a un sito che si chiama the file pulse puntocom e si riferisce a differenza di prima che riguardava la biana smart scene qua principalmente riguarda e tirium il grafico va a rappresentare quanti dollari sono stati bloccati sono bloccati nella the file inizialmente viene visualizzata 90 giorni ma si può impostare anche 30 giorni o un anno o da quando è stata creata la the file subito sotto abbiamo una classifica dei progetti più importanti classifica che varia a in base alla quantità di dollari che sono stati bloccati all'interno della piattaforma qua sopra noi possiamo andare anche a selezionare le tipologie le categorie di the file che possono essere il land il dex derivati i pagamenti o gli asset e noi cliccando da sopra possiamo spostarsi tranquillamente in base alle categorie per andare a fare una ricerca più rapida o se no se conosciamo il nome dell'applicazione che vogliamo utilizzare della piattaforma che vogliamo monitorare possiamo tranquillamente digitare il nome sulla barra di ricerca facciamo un esempio andiamo a controllare maker noi clicchiamo su maker abbiamo che state praticamente ci va a indicare un po riassunto che va a succedere che succede nelle ultime 24 ore quanta supply viene bloccata al 2,62 per cento su quale blog chain gira quindi e tirum e il nome del protocollo la cosa importante che possiamo andare a vedere oltre questi andamenti è soprattutto la parte inferiore ovvero gli audit anche quando andiamo a controllare se ha ottenuto almeno un audit o se ha ottenuto più audit in questo caso come vedete ne ha 5 in alto nel menu noterete che c'è anche la voce bitcoin network se noi clicchiamo sopra ci dà una panoramica dei token che esistono che vanno a rappresentare bitcoin sulla defy ovviamente il primo in assoluto e frappini bitcoin brad btc all'interno della defy sui tiro mi raccomando noi stiamo guardando un sito dedicato alla defy di tirum troviamo appunto brad btc ci dice che custodia quindi è centralizzato l'unica pecca e anche se un progetto comunque valido non è non custodia ma custodia lovero centralizzato permette a questa applicazione di depositare dei nostri bitcoin e ricevere in cambio i vb tc questi vb tc sono sono la rappresentazione di bitcoin all'interno di e tirum cosa ci permette di fare vb tc una volta che abbiamo ottenuto questo token ci permette di andarlo a scambiare per qualsiasi alt coin ad esempio all'interno di uniswap se invece clicchiamo alla voce landing ci fa vedere i tassi di interesse che noi possiamo andare a guadagnare a seconda del portale che andiamo ad utilizzare oppure la percentuale che andremo a pagare qualora noi andassimo a prendere in prestito delle cripto valute facciamo un esempio per capire meglio se noi clicchiamo su dai e andiamo a depositare dai all'interno di compound noi andremo ad ottenere un reward del 3,6 per cento main annuo variabile mentre se noi andassimo a prendere in presto dei dai all'interno di compound dovremo pagare un 5.2 per cento di interessi siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento spero che anche questa volta e questo video sia stato di vostro gradimento e l'abbiate trovato utile vi invito ad iscrivervi al canale e lasciarmi un like per supportare il mio lavoro aiutarmi essere indicizzato da youtube e vi invito inoltre ad unirvi alla nostra community telegram per far due chiacchiere insieme a noi e per avere un supporto continuo su diverse problematiche alla prossima